E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Saluto dalla macchina Perché oggi sono andata d'acqua e sapone e c'è l'omaggio della festa della mamma Sono già andata e tornata e sono riuscita a prendere quello che volevo in omaggio Adesso appena arrivo a casa vi faccio vedere cose che ho preso Ma proprio due cosine giusto perché mi volevo prendere l'omaggio e poi erano due cosine che mi servivano Ci vediamo dopo Allora ragazzi vi faccio vedere giusto le due cosine che ho preso perché volevo assolutamente l'omaggio Ho preso una spugna, infatti ho speso 21 euro, niente di che, giusto perché mi volevo prendere l'omaggio Ho preso una spugna, poi ho preso l'alluminio che mi era terminato Le salviettine imbevute Un'altra spugna, questa è per Auri Poi ho preso un detergente intimo, questo qui rinfrescante Il mio solito Nidra, non ne posso fare a meno, io lo stradoro Infatti lo prendo 3 euro quando non è in offerta ma è il mio preferito, dura poi anche tanto Ho preso anche questo qui, BREATH ACTIVE, fa un profumo meraviglioso, già da chiuso E siccome l'ho provato l'altra volta e mi è piaciuto tanto, era in offerta e l'ho voluto riprendere Ho ripreso anche Acio, Acio, Acevicigel profumato questo glitter, è stupendo il profumo Un paio di guanti Due dentifrici Il mio solito coccolino, per ora sono fissata con questo I sacchetti E ho preso anche questi qui Perché mentre andavo da acqua e sapone mi si è rotto la pinzetta che avevo E quindi ho preso uno di questi, vabbè un euro li ho pagati tutti e due Adesso vi faccio vedere l'omaggio che è troppo troppo bella È una borsa mare che sicuramente utilizzerò anche per uscire perché è stupenda Guardate quanto è bella Aspettate Guardate è bella pure, capiente E dico non è che per forza si deve utilizzare per il mare A me piace e mi piacerebbe sinceramente utilizzarla anche per uscire Quindi adesso ho un po' di cosine da fare a casa Così domani sono libera e festeggiamo così La festa della mamma Quindi mettiamoci subito all'opera Ragazze qui siamo al giorno dopo E cominciamo subito con questa chioma riccia Avevo fatto lo shampoo da poco ed erano belli pomposi Comincio subito con il cambio stagione come ogni anno Comincio sempre dal cambio stagione di Auri Perché è un po' più tragico tra virgolette Perché ovviamente ci sono le cose da togliere che non le vengono più E quindi giustamente con i controlli di routine si perde più tempo Andiamo sia di vestiti che di scarpe E comincio direttamente dal suo così il lavoro più pesante è già fatto E quindi vado, tolgo tutto anche perché in questo comò C'ha solamente tre cassetti lei Perché le bastano, anzi quattro Perché gli altri due di sotto, anzi tre sono i miei Perché ci metto comunque le lenzuola e cose varie Qui sono andata a pulire semplicemente con acqua e alcol Si era asciugato e stavo andando a sistemare le maglie Ovviamente sono qualche minuto scarso Diciamo perché capisco che già annoia farlo Il cambio stagione figuriamoci a guardarlo Però ho detto vabbè mi faccio fare un po' di compagnia dalle ragazze E quindi ho registrato giusto qualche minuto Grazie a tutti A presto Ed eccoci qui dopo un'oretta e mezza ho terminato finalmente il cambio stagione Devo dire che è sempre soddisfacente poi quando si aprono gli armadi e c'è tutto in ordine Quindi in questo armadio ho messo tutte le cose invernali E qui e nei cassetti che vi ho fatto vedere poco fa ho messo le cose estive In questi giorni poi farò anche quello di mio marito e il mio lo lascio sempre per ultimo Alla fine vado anche a prepararmi il condimento per la pasta di stasera perché a pranzo saremo fuori Visto che comunque è la festa della mamma saremo fuori Ieri alla fine ho registrato solamente il pezzettino dove sono andata d'acqua e sapone E stamattina proprio appena sveglia come avete visto ho fatto il cambio Mi sto preparando il condimento così una volta che siamo pronti poi possiamo scendere Dovremo andare al centro commerciale perché devo andarmi a cambiare il bracciale Pandora che mi ha regalato mio marito Devo cambiarlo di misura e poi pranzeremo fuori Ho preparato il ragù in bianco per la cena così almeno già sapevo cosa dovevamo pranzare Visto che abbiamo invertito la cena con il pranzo Nelle parole della mamma c'è sempre la tazzetta Nei pensieri della mamma c'è sempre la carezza Negli occhi della mamma c'è sempre il mio viso Oh mio Dio, è vero? Non vuole Grazie amore Che bella Cara mamma per la tua festa ti regalo un cuore pieno d'amore Aurora Che bella Grazie amore 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 Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.